Martedì della seconda settimana dopo Pentecoste l'Eucaristia e l'unità del corpo mistico dottrina di Dionigi Vareopagita. Sacramento dei Sacramenti, Dionigi, la gerarchia Echels, c. 3, 1, o Santissimo, sollevando i veli che ti circondano dei loro misteriosi significati, mostrati da lungi nel tuo splendore e riempi le anime nostre della tua diretta e purissima luce. Così esclama nel suo incomparabile linguaggio il rivelatore delle divine gerarchie. Il sacerdote ha appena celebrato i santi misteri e lì mostra agli sguardi sotto il velo delle sacre space. Quel pane ora nascosto e che formava un tutto unico, e lì lo scopre, e lo divide in più parti, dà a tutti dallo stesso calice, moltiplica simbolicamente e distribuisce d'unita, consumando così il sacrificio. Poiché l'unità semplice e nascosta del verbo, disposando tutta l'umanità, è discesa dalle sublimità divine fino al mondo visibile e molteplice dei sensi e, adattandosi al numero senza mutare natura, unendo la nostra nullità alla sua magnificenza, la nostra vita e la sua vita, la sua sostanza e le nostre membra, vuol fare di tutti un tutto unico con sé, Dionigi, Ibidem, Paragr. 12, 13, così pure il sacramento divino, 1, semplice, indivisibile nella sua essenza, si moltiplica amorosamente sotto il simbolo esteriore delle sacre specie, perché, ripiegandosi sul suo principio e rientrando dal molteplice nella propria unità, possa condurvi quelli che vi sono accostati nella santità, Dionigi, Ibidem, Paragr. 3, sicché il nome che maggiormente gli si addice è appunto quello di Eucarestia, azione di grazie, che racchiude l'oggetto di ogni lode e tutti i doni celesti giunti fino a noi. Mirabile compendio delle operazioni deificanti, esso sostiene la nostra vita e ristabilisce la rassomiglianza divina nelle anime nostre sull'archetipo supremo dell'eterna bellezza, ci guida attraverso sublimi ascensioni in una via sovrumana, per suo mezzo sono riparate le rovine della prima colpa e finisce la nostra indigenza, prendendo tutto in noi, e dandosi interamente, ci fa partecipi di Dio stesso e di tutti i suoi beni, Ibidem, Paragr. 7. Dottrina di S. Agostino O sacramento d'amore! O segno dell'unità! O legame di carità, riprende a sua volta Sant'Agostino, su S. Giovanni, Trattato 26, 13. Ma questa forza unitiva dell'Eucaristia, magnificamente celebrata dall'Areopagita nel raccostamento che essa opera fra Dio e la sua creatura, il Vescovo di Pona si compiace di vederla edificare nella pace il corpo mistico del Signore e prepararlo per l'eterno sacrificio e per la comunione universale e perfetta dei Cieli. È l'idea madre che gli ispira sublimi slanci sul diven sacramento. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, aveva detto il Salvatore, chi mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo, Gv. 6, 51, 52, poiché la mia carne è veramente cibo, e il mio sangue è veramente bevanda, Ibidem 56. Questo cibo, questa bevanda che egli promette agli uomini, spiega Sant'Agostino, è senza dubbio direttamente la sua vera carne e il sangue delle sue vene, e l'ostia stessa immolata sulla croce. Ma di conseguenza, costituita sulla sua propria e reale sostanza, immolata con lui come una sola ostia nel medesimo sacrificio, e la Santa Chiesa in tutti i suoi membri, predestinati, chiamati, giustificati, glorificati o ancora viatori. Soltanto in cielo sarà proclamato nella sua pienezza e nella sua perennità il grande mistero eucaristico, questo ineffabile nutrimento delle anime che consisterà nell'unione permanente e perfetta di tutti in tutti e in Dio per Gesù Cristo. Siccome infatti, continua Sant'Agostino, ciò che gli uomini desiderano nel mangiare e nel bere e di appagare la fame ed estinguere la sete, tale risultato è veramente raggiunto solo mediante il cibo e la bevanda che rendono coloro che li prendono immortali e incorruttibili, e formano cioè la società stessa dei Santi, dove regnerà la pace in una piena e perfetta unità, su S. Giovanni, Trattato 26, 15, 17. O unico banchetto degno dei Cieli, banchetto sublime, dove ogni eletto, partecipando dell'intero corpo, gli dà a sua volta sviluppo e pienezza. È questa la Pasqua dall'eternità che il Signore annunciava quando, al volgere della sua vita, ponendo fine alla Pasqua delle figure con la realtà avvelata ancora del sacramento, invitava i suoi per un banchetto nuovo nella patria senza figure e senza ombre. Io non mangerò più di questa Pasqua fino alla sua consumazione nel regno di Dio, le. 22, 16, diceva ai depositari dell'alleanza, non gusterò più di questo frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del padre mio, mi. 26, 29. Giorno senza fine, giorno di piena luce, cantato da David, in cui, sciolta dai veli, inebriata per prima d'amore al suo divino banchetto, la sapienza, stringendo per sempre in un solo abbraccio il capo e le membra, farà bere il uomo al torrente delle sue divine voluttà e della vita che attinge nel seno del padre, Sal. 35, 8-10. Ma già Cristo nostro capo ha penetrato le nubi, la Chiesa, inondata di delizie, al braccio del suo diletto, sale senza posa dal deserto, cant. 7, 15, si completa ogni giorno il numero dei suoi membri fratelli nostri ammessi al sacro banchetto dei Cieli. Con ragione Cristo esclama, ecco ora l'osso delle mie ossa e la carne della mia carne, Gen. 2, 23, essi aderiscono a lui come la sposa allo sposo, non formando più che un medesimo corpo. L'Eucaristia ha prodotto questo mirabile risultato, che si rivela solo nel gran giorno della gloria, ma è qua giù, sotto l'ombra della fede, che essa trasforma così i predestinati in Cristo stesso. Il corpo di Cristo. Dio è amore, abbiamo detto più sopra, ma l'amore richiede l'unione, e l'unione esige degli esseri simili. Ora tale assimilazione che, dall'uomo a Dio, poteva compiersi solo mediante l'invito dell'uomo a partecipare alla natura divina, 2 Pit. I, 4, è l'opera speciale dello Spirito Santo mediante la grazia, il risultato della sua inabitazione personale, i cor. 3, 16, nell'anima santificata, di cui penetra intimamente tutte le potenze e la sostanza stessa. Così fece in Cristo, inondando l'essere umano della sua pienezza nel seno della Vergine Madre, mentre contemporaneamente l'eterna sapienza si unì a quella natura inferiore e creata, ma dall'ora in poi santa e perfetta in eterno nello Spirito santificatore. Così fa ancora preparando la Chiesa, la città santa, al banchetto nuziale dell'agnello. Così i figli e i membri della sposa, divenuti come Cristo, e che formano un solo corpo con Lui, sono resi partecipi delle sue nozze divine con la sapienza eterna.